Non vanno oltre lo 0-0 Porto Sant'Elpidio a Marina al termine di una gara tutt'altro che spettacolare. Un pari che non sfama gli elpidienzi, sempre costretti a dimenarsi nei bassi fonti palesando limiti in particolare in prima linea, dove il gol è sempre una chimera, come testimoniano i soli sei centri fin qui realizzati. Padroni di casa che speravano in un'inversione di tendenza dopo l'amaro rovescio di Monte Giorgio, ma hanno dovuto fare i conti con un Marina che ha dimostrato che su in alto non ci sta per caso, magari nella giornata in cui ha brillato meno, ma pur sempre dando sfoggio di compattezza e solidità. Nel Porto Sant'Elpidio non c'è Castracani, uscito malconcio da Monte Giorgio, mentre nel Marina finisce in tribuna Suare al centro del caso della settimana nel ricorso presentato dal Camerano per una discrepanza sulla data di nascita tra il terzieramento attuale e quello precedente con la Iesina. Subito in avvio c'è il timido tentativo di Belletti con tocco nel cuore dell'area. La palla si impenna e per Giovagnoli non ci sono problemi. Una prima opportunità che poteva far presagire una partita con contenuti più godibili, invece così non è stato. Si dovrà attendere infatti il ventitresimo quando da una precevole offensiva ospite Gioacchini si trovava solo davanti a Melillo, il quale si opponeva in uscita superando anche fallo dall'attaccante in casacca bianco-celeste. La prima frazione si chiude con due opportunità per il Marina. Nella prima Gioacchini ben impeccato da Ribichini calcia fuori da sottomisura, poi lo stesso Ribichini dalla distanza, la palla però si perde sul fondo. In apertura di ripresa il Porto Sant'Elpidio prova a metterci di più. Cucu innesca Ionni che non prende però la porta. L'unico intervento dell'incontro che il portiere Giovagnoli deve fare è al sesto sul tentativo dalla distanza di Cucu, che l'estremo ospite annulla senza alcuna difficoltà. Il Marina all'occasione l'ha al dodicesimo, quando il solito Ribichini mette in mezzo per la corrente Gregorini, il cui tiro finisce di poco sopra la traversa. Praticamente la stessa cosa avviene sul fronte opposto, quando ancora Cucu mette in mezzo per Ionni, che non prende ancora la porta. Poi ancora locali in avanti con belletti per Cucu, la cui conclusione è Fiacca e centrale. Nonostante i buoni propositi dei padroni di casa, la loro spinta trova sempre l'attenta difesa ospite, con la gara che scivola via senza riservare più grosse opportunità, tranne quella nel recupero per il stupentrato da poco ripanti, che però conclude Fiacco e per Melillo non ci sono problemi. Il triplice fischio arriva da lì a poco, con le due squadre che guadagnano gli spogliatoi con stati d'animo diversi. Alla soddisfazione del Marina per il buon punto in trasferta che allunga la scia positiva, fa riscontro la delusione del porto Sant'Elpidio, che proprio non riesce a decollare in questo ritorno in eccellenza, e che ne fa una delle formazioni a rischio.